Cosa condivisa? Se si salta Conte vedremo, però è evidente che si parte da capo. Ma questo nome non è più così condiviso? No, è condivisissimo. Ma il nove di Conte quindi non bacilla? Non capisco perché avete questi dubbi. Ma bacilla il nove di Conte in bilico il nome di Conte? No, 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 non torna Di Maio in pista. Il Quirinale ha chiesto il tempo per riflettere e aspettiamo la decisione del Quirinale. Lei ha visto sui quotidiani polemiche sul curriculum di Conte? Non guardo i quotidiani, non guardo più niente. Leggi, non c'è tempo per guardare qualcosa lì. Però Giuggetti, se il nome di Conte dovesse vacillare... Tocca a Mattarella, non so se lo aspettiamo. Ma il nome di Savona rimane sul tavolo oppure c'è un piano B? Ma prima c'è il Presidente del Consiglio, poi vengono i Ministri. Però queste cose sono un problema del Presidente del Consiglio. Ma il nome di Di Maio può ritornare in pista? No, no. Secondo lei questa telenovela entro la settimana si chiude? Giura il governo? No, no. Entro la settimana giura il governo? Speriamo. 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 La nostra parte l'abbiamo fatta. Grazie. 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 Grazie.